Amici telespettatori, ospite del nostro programma è Ignazio Ganga, segretario regionale della CISL Sarda, che tra le sue competenze dirette è quella del pubblico impiego, della sanità e delle riforme istituzionali. Sostanzialmente sono i tre argomenti di cui parleremo questo pomeriggio, a cominciare dalla ASL unica. Da tre o quattro mesi non si sente parlare che di ASL unica. Ci vuol dire così, in un paio di battute, che cosa è l'ASL unica? Poi entreremo a capire i meccanismi, le ricadute che questa ASL unica avrà sull'assistenza sanitaria delle persone. Cos'è l'ASL unica? Lo dice la parola, noi partiamo da un sistema sanitario sardo fondato su 11 aziende, di cui 8 aziende sanitarie locali più le aziende ospedaliere e le aziende universitarie ospedaliere, quindi le due università più l'azienda Brozzo. la riforma che dovrebbe riguardare l'ASL unica riguarda le otto aziende sanitarie locali, quindi la Gallura, piuttosto che Sassari, Nuoro, Uristano. Ma queste verranno eliminate così? Nell'ipotesi della giunta regionale, perché per adesso è un disegno di legge che è stato approvato in giunta e inviato in consiglio regionale, le otto aziende sanitarie locali dovrebbero venire meno e al loro posto ci sarebbe un'unica azienda sanitaria. Quindi un accentramento di poteri in un'unica realtà. Ecco, ma segretario, sembra di capire, anche dai discorsi a quello che si legge, dai discorsi dei politici, che si faccia un'azienda sanitaria unica soprattutto per motivi economici. Ma sì, perché viviamo in una regione dove la sanità è un costo e non è invece un'opportunità per generare sviluppo. Sembra quasi nei dibattiti con la giunta regionale che la sanità sia un'entità inanimata e quasi mai viene fuori. Quello che invece a livello nazionale emerge recentemente, sentivo il ministro Lorenzin, il ministro della Salute, che faceva notare che la sanità italiana nel suo complesso concorre a generare una quota importante di prodotto interno lordo. Non so se sia vero, ma lei parlava addirittura dell'11% del prodotto interno lordo nazionale. Quindi una grande azienda che offre un servizio importantissimo, ma genera anche ricchezza per il contesto nazionale. Non si capisce perché in Sardegna la sanità sia solamente un costo. E come tale ogni approccio riformistico, la parola riforma in Sardegna è diventata una parola malata, perché riforma dovrebbe preludere un miglioramento complessivo, soprattutto del servizio al cittadino. Qua la parola riforma è una parola che invece ha un unico obiettivo, che è quello di generare delle economie. Noi abbiamo a che fare con un sistema che è giusto che generi delle economie, però nel generare economie deve anche migliorare la dimensione del servizio al cittadino e questo è un aspetto su cui noi siamo molto attenti, molto vigili. Ascoli, segretario, però abbiamo da una parte questa ipotetica ASL unica, però dall'altro ci sono alcune ASL che continueranno ad esistere. No, le aziende ospedaliere. Due aziende ospedaliere. Le due sanitarie più l'azienda. Più il broccio e più ci sarà la reuso, mi pare quella delle urgenze. L'emergenza urgenza. Nel senso che a completamento di questo disegno effettivamente avremo tutto il vecchio sistema sanitario locale sotto un unico direttore generale. Direttore generale che tra l'altro avrà sotto mano un bilancio superiore al bilancio del Presidente della Regione. Lei pensi che noi abbiamo un bilancio regionale che viaggia intorno ai 7 miliardi e 7 e il valore della sanità in questo bilancio è di 3 miliardi e 661 milioni. A questi si aggiungono intorno ai 250-260 milioni che sono le risorse per il socio sanitario assistenziale. Noi abbiamo un direttore generale che non è eletto dal popolo ma che avrà un potere superiore perlomeno sul piano della gestione e quindi del governo, delle risorse e dei cittadini sardi superiore alla quantità di denaro che andrebbe a gestire il Presidente della stessa giunta regionale. E' su questo che noi abbiamo fatto presente che bisognerebbe essere un tantino più accorti. Anche per una figura di questo lignaggio non è semplice neanche da trovare. oltre al fatto che noi perlomeno come organizzazione sindacale abbiamo qualche dubbio che nelle megastrutture sia naturale la possibilità di conseguire delle economie. Anche perché siamo di fronte ad esperienze simili che dimostrano che non è semplicissimo. Faccio un esempio, il caso Abanoa. Il caso Abanoa ha dimostrato che nel breve e nel medio tempo non è semplicissimo conseguire l'economia attese che quando stava nascendo questo grande ente acquedottistico si pensava avrebbe potuto conseguire in tempi completamente diversi da quelli che invece questo ente si è preso. Ecco che allora diverso sarebbe stato riorganizzare gli acquisti in un'unica centrale. Diverso sarebbe stato mettere in campo un progetto per ottimizzare la spesa farmaceutica anche qua attraverso un'unica centrale. Il solito e banale esempio che si fa quando ci si incontra era impensabile che otto aziende pagassero la classica siringa con otto prezzi differenti. Ascolti segretario, ma lei chiedeva se hai fatto gli sprechi nella sanità. Secondo lei dove avvengono? Dove ci sono? Se me lo dice lei io sono sicuro che lo sapranno anche gli altri. Ma io mi sono fatto un'idea di questo tipo. Noi abbiamo circa 20 milioni di ricette, 19 milioni e 750 mila ricette a livello regionale. A questo si aggiunge il fatto che è regione che ci dice che i ricoveri del pronto soccorso per il 70% in Sardegna sono ricoveri inappropriati. E tutto ciò genera un esborso per il sistema che essendo definito inappropriato proprio da loro significa che c'è comunque qualche disfunzione in alcuni gangli del sistema. Ma se noi abbiamo un problema di 20 milioni di ricette e del 70% dei ricoveri sui pronto soccorso inappropriati vorrà dire che se volevamo fare una riforma, perché comunque è un atto dovuto riformare, non l'ha deciso la regione Sarda. Ci sono norme nazionali che ad iniziare dal patto per la salute 2014-2016, oltre ad altre norme che ci imponevano comunque il ritorno all'interno di alcuni standard che si stanno cercando di perseguire. Però se si voleva veramente riformare la sanità bisognava partire da quei centri di spesa che generano veramente il buco sanitario, comunque sia ad esempio il territorio. ed è questo proprio l'aspetto che ci porta ad un confronto abbastanza articolato con la regione. Se le inappropriatezze e questo aumento della spesa viene generato in queste due voci che loro citano e che provengono dal territorio, noi non capiamo perché la riforma deve partire dalla tecnostruttura, quindi dalla testa. A noi questa riforma ci sembra una riforma partita al contrario, quindi nessuno dice che non andava fatta, ma anziché partire dalla tecnostruttura, l'aslunica, per passare alla rette ospedaliera, per passare all'emergenza urgenza e per chiudere con il territorio, noi avremmo visto la riforma che partiva dal territorio, l'emergenza urgenza, la rette ospedaliera e poi si poteva valutare che tecnostruttura poteva essere più funzionale a gestire questa nuova sanità riformata. Invece ancora una volta si parte dal direttore generale. Noi siamo perché si partisse dall'ottimizzazione del servizio al cittadino la riforma. Segretario, lei è un sindacalista che conosce benissimo le zone interne perché proviene dal norese. Io sento dire spesso, dai così gli amici delle zone interne, dicendo che a noi non interessa quale sarà la riforma della sanità regionale, a noi interessa che ogni cittadino, compreso quello delle zone più interne, abbia lo stesso grado di assistenza sanitaria di quello che sta a Cagliari, di quello che sta a Sassi. Ma questo è il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà. Ma secondo me la riforma che si sta elaborando garantisce questo? Secondo noi no, perché la riforma che si sta elaborando parte soprattutto sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, presuppone la diminuzione del numero di stabilimenti, così come li chiama. Questi sono stabilimenti? Sarebbero gli ospedali che noi abbiamo conosciuto sino ad ora. E rivede le funzioni di alcune realtà che vengono definite gergalmente come gli ospedali minori. Ora a noi preoccupa molto l'idea che il Sarcidano piuttosto che il Mandrolisai, piuttosto che la Nurra, piuttosto che l'Eiso e la Maddalena o Carloforte o il Sarrabus debbano necessariamente far riferimento ai grandi centri di erogazione dei servizi, quelli che la riforma chiama gli hub. I due grandi hub sarebbero Cagliari e Sassi, queste due grandissime realtà che dovrebbero garantire una quota importante del servizio sanitario ospedaliero ai cittadini sardi. O il quasi hub, lo chiamano spoco rinforzato di nuoro. Una tripartizione della sanità per noi sarda fatta in questo modo e con le caratteristiche di un'isola che invece è un'isola da 24 mila chilometri quadrati è limitativo. A noi preoccupa l'idea che gli ospedali minori rivisitati secondo questo modello che Regione chiama il modello degli ospedali di comunità e che sono una via di mezzo tra una realtà sociosanitaria che deve rispondere ad esigenze del territorio, ma non necessariamente esigenze del paziente acuto a cui risponde normalmente l'ospedale. E una via di mezzo quindi tra questa dimensione del territorio e questa dimensione dell'ospedale sembra quasi che voglia camuffare all'interno di questa idea di ospedale di comunità un format che altro non vuole che depotenziare il ruolo di questa realtà, di queste strutture e non ci piace. Però i tecnici dell'assessorato e forse anche l'assessore dice che i piccoli ospedali sono vicini ai cittadini però non facendo una intensa attività soprattutto nel campo dell'interventistica e della chirurgia non danno garanzie per cui una struttura chirurgica che non fa almeno 200 interventi all'anno è pericolosa per il paziente oppure è una struttura dove non nascono 500 bambini o 300 bambini non dà garanzie alle mamme e allora come facciamo conciliare le due cose? La statistica sanitaria ci dice questo, la statistica sanitaria ci dice che tutto, che in sanità tutto si fonda sulla capacità, sul numero di interventi, questo è vero, però bisogna porsi anche nelle popolazioni che hanno oggi una realtà che ha pure un numero di, ha una casistica limitata ma che domani non avrà neanche quella realtà. Sulle isole siamo stati noi, io in particolare, a porre il problema. Le isole Carloforte e la Maddalena non vanno viste ora a luglio ad agosto quando i traghetti vanno e vengono, le isole vanno viste quando soffia il maestrale, quando è difficile collegarle e quando non si alzano neanche gli elicotteri dell'elisoccorso. Allora è preferibile una realtà in un'isola che ha una casistica limitata e che ha anche un costo importante, garantendo comunque un minimo di serenità ai cittadini di quelle realtà o dobbiamo perseguire la linea del numero di casi e quindi di una ottimale risposta da dare al cittadino. Andiamo a chiederlo ai cittadini della Maddalena e di Carloforte se preferiscono non avere un ospedale con una casistica minima o avere un ospedale che sia pur con una casistica minima, l'emergenza e l'urgenza te la garantisce anche durante l'inverno in una condizione estrema. Noi propendiamo per una soluzione di questo tipo. Se hai detto prima di passare ad un altro argomento, mi sintetizzi in un minuto alle proposte della CIS per trovare un po' la quadratura del cerchio. Io l'ho già detto, innanzitutto di riforma ce n'era bisogno, però dovevamo partire dalla riforma del territorio, meglio dalla riorganizzazione del territorio, perché se il problema è ridurre i costi perché i cittadini sono molto centrati sull'ospedale, per disimpegnare l'ospedale deve far funzionare la medicina territoriale, non c'è niente da fare, per cui bisogna investire di più e diversamente sulla medicina di base. Sicuramente su questo filone noi stiamo sollecitando la giunta affinché ci sia un supplemento d'attenzione. L'emergenza urgenza è sicuramente una priorità, anche se non la vedevamo la necessità di aziendalizzarla. Si poteva investire a prescindere dall'aziendalizzazione dell'emergenza urgenza. Quindi questo è il secondo aspetto. L'ospedale va sicuramente meno sollecitato rispetto ad oggi, tenendo presente che le caratteristiche sociali ed epidemiologiche della Sardegna sono diverse da quando questi ospedali nacquero. Noi abbiamo a che fare con degli indici vecchiaia molto importanti, in alcuni territori superiamo anche il 180% di indici vecchiaia, abbiamo dei pazienti molto più sfidanti di quanto non lo fossero 20 o 30 anni fa, l'ospedale deve rispondere alla sfida di questo paziente sempre più anziano in maniera differente. Per cui là ci saremmo aspettati magari un ospedale riformato non più per tipologia, cioè la cardiologia piuttosto, ma un ospedale che prende in carico il paziente e diciamo così lo segue rispetto a una complessità di specifici problemi che un paziente di una certa età presenta. Ascolti, l'altro argomento in cui volevo parlare con lei, perché lei lo sta seguendo molto è questo, delle servitù militari. Ci sono circa 2.800 lavoratori addetti a questo, ma questo è un settore dove sembra che le basi militari stiano chiudendo, diciamo un anno ha già visto i tedeschi andare via, per das de vogue ha già visto quel centro cambiare natura, capofrasca succederà, resiste tiolada e qualche altra cosa. Che fine faranno questi 2.800 posti di lavoro? Noi abbiamo un'interlocuzione con il Ministero della Difesa, anche perché l'ha detto lei, 2.800 lavoratori, tra lavoratori con le stellette e lavoratori senza stellette, più imprese d'appalto che fanno crescere abbondantemente questi numeri, 2.800 sono gli operatori dei perimetri tra militari e non militari, i civili del Ministero della Difesa sono poco più di 1.000. Noi indubbiamente abbiamo una pressione importante, circa il 60% del servituto nazionale gravitano in Sardegna. È un bene o un male? Sicuramente non siamo riusciti a far valere questo 60% in termini di risposte occupazionali. Se io avessi a ruoli invertiti dovuto fare come istituzione il confronto col governo centrale alla luce di una necessità, perché è chiaro che le esigenze di non dismettere le basi militari sono chiare, basta aprire i giornali anche di questi giorni e si capisce che l'esercizio delle funzioni della pace passano comunque per un sistema di difesa adeguato. Invece l'approccio dell'istituzione è sempre un approccio, una valutazione del sistema della difesa uguale guerra. Per noi il sistema di difesa significa uguale pace, uguale garantire l'arrivo dei migranti in salute nelle nostre coste, significa comunque garantire alcune situazioni diciamo così alla politica internazionale che non vanno sicuramente verso il versante dell'offesa ma vanno verso il versante della pace e su questo aspetto noi ci soffermiamo spesso nel confronto con la regione che è un approccio idiosincratico al tema delle servitù militari. Detto questo noi dobbiamo avere di più dallo Stato, l'avvertenza con lo Stato dovrebbe essere diversa perché noi dovremmo avere di più in termini di indennizi, dovremmo avere di più in termini di costi, di tempi proprio per pagare gli indennizi, dovremmo avere di più in termini di forza lavoro, dovremmo avere una difesa che non si sviluppa in senso tradizionale ma si sviluppa ad esempio su filoni come hanno fatto il Friuli Venezia Giulia ma soprattutto la Puglia nella seconda conferenza sulle servitù militari che è quella dove il nostro Presidente della regione è andato via senza firmare alcun accordo che hanno invece pattuito con lo Stato filoni proprio di ricerca e di innovazione su cui poter veramente esercitare la ricerca e l'innovazione all'interno di questi perimetri ed era un po' quello che noi chiedevamo ad esempio per Quirra, per il poligono e il salto di Quirra, io sono favorevole alla mitigazione dei giochi di guerra, sia chiaro. Cioè la Sardegna solo come luogo dei giochi di guerra non piace neanche alla mia organizzazione sindacale. La Sardegna come luogo di sperimentazione, come opportunità per formare i militari, penso al potenziamento della scuola sotto ufficiali della Maddalena, la Sardegna come luogo dove fare le manutenzioni delle tecnologie militari, penso alla Sardegna come luogo dove sperimentare tutta la partita dei droni che si sta facendo invece in Puglia, sono occasioni perse dalla nostra regione considerando comunque che è improbabile che le nostre servitù militari possano essere dismesse da qui a poco, perché poi ci devono anche spiegare che ne facciamo di queste lavoratrici, di questi lavoratori che dentro questi perimetri ci stanno. Ascolti, l'ultima domanda perché sta per concludersi il tempo a nostra disposizione è questa, ma lei non pensa che troppo invasione ai servitù militari, paghiamo il 60% dei servitù militari della Sardegna, però tutto sommato queste servitù militari ci hanno salvato in molti casi della cementificazione delle coste. Sicuramente se sull'arcipelago della Maddalena hanno potuto fare il primo parco nazionale della Sardegna è perché ci sono state riconsegnate pezzi interi di quel paradiso intonsi dal demanio militare. Segretario, ma riusciamo a vincere, cioè uscire vittoriosi da questa avvertenza a servitù militari? Per vittoriosi intendo soprattutto salvare i posti di lavoro. Noi dobbiamo aumentare i posti di lavoro dentro i perimetri, non solo salvarli perché perderemmo veramente l'avvertenza. Io sono preoccupato per questo approccio negativo che la giunta regionale ha dato all'avvertenza stessa, perché c'erano le condizioni per mitigare, ripeto, i cosiddetti giochi e per negoziare con lo Stato condizioni differenti rispetto alla presenza delle servitù. Certo, se il comune di Perdas de Vocu deve avere un indennizzo e questo indennizzo arriva dopo 4 anni ed è gravato anche dal patto di stabilità, il problema si pone. Quindi anche queste erano materie su cui negoziare con lo Stato. Bene, ringraziamo il nostro segretario regionale della CIS, l'Ignazio Ganga, che è venuto e è la seconda volta che viene, ci ha presentato nei dettagli, ci ha fatto capire un po' come funziona o così, quali sono, quali sono, quali sono le entità dei problemi sul tappeto, sia nel campo della sanità, sia nel campo dei servizi militari. Grazie segretario. Grazie a voi. Grazie a voi.